Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto custodia e cover up le phone 4. Ispirate, di esprimere la propria individualità o trovare il perfetto, dono straordinario. Chi potrà mai dimenticare la cattivante rosa pizza Swarovski cellulare sport e blareese with respawn illegali blonde o tutti i ghiacciata bling di Sarah Jessica Parker ha rivelato off in sexy in the city. Diventa il protagonista di Spumante la propria vita con incredibili accessori per rivale bling maestri come Paris Hilton, Lindsay Lohan, Stella Jones, Sean e Puffy. Il tuo cellulare pizza Swarovski si abbagliano come diamanti per farvi sentire come un milione di dollari per tutto il tempo. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.